Torniamo invece ai problemi dell'agricoltura ma anche della pesca. Con l'ospite che vi ha preceduto nei nostri studi, sottolineavo il ruolo dell'Europa perché in questo momento gli agricoltori vivono come una minaccia. Io volevo chiedere a lei che è proprio un esperto, tra l'altro ci dica anche qual è la sigla alla quale lei appartiene per capire anche lo spessore dell'ospite che abbiamo intercettato per approfondire questo argomento oggi. Innanzitutto grazie per l'ospitalità Anna, e ad Antenna Sud, a Mattina Sud. Avrei voluto tanto parlare dei nostri tattori in maniera diversa, ovvero di solito a Carnevale li utilizziamo per i carri allegorici ed invece quest'anno purtroppo la nostra sfilata, che non è una sfilata, è a Roma e sarà Circo Massimo a riempire una piazza intera che purtroppo non festeggerà soltanto Carnevale in questa maniera ma anche un San Valentino da innamorati della democrazia, perché fondamentalmente per la prima volta la comunità europea sta valutando di percepire un nostro messaggio chiaro e forte, che gli italiani partendo dal cuore dei nostri agricoltori riesce ad aggregare molte categorie di lavoratori in una protesta strutturata a partire appunto da, come dicevi prima, una delle nostre sigle UCE, una ONG a politica con la quale noi esperti italiani ma anche provenienti da tutto il mondo, esperti del Parlamento europeo tradotto in inglese. Quindi a me piace sottolineare che lei è un esperto del Parlamento europeo per cui accontezza di come questo tema venga trattato in sedi che per noi possono essere lontane. Le sedi diventano lontane quando abbiamo, come avete tutti potuto vedere negli ultimi anni, sindacalisti non riconosciuti perché forse il loro stile di vita e la loro non presenza è stata forse censocraticamente troppo prepotente con la categoria dei lavoratori, degli agricoltori e forse perché la politica non credibile, spesso non strutturata, sceglie di essere eletta in lestini bloccati e non continuare ad essere nei territori disponibili al dialogo e soprattutto alla presentazione strutturata di proposte credibili che vengono dalla gente. Il Parlamento europeo non è lontano, diventa vicino nel momento in cui abbiamo la consapevolezza che appunto la libera espressione parte dalle richieste di mercato. Un mercato che non deve essere in mano alle multinazionali ma anche ai territori, anzi partendo dalle nostre case. Io sono di Torre Maggiore, una città che con le attività produttive ha dato pane a generazioni e ci dà molto molto fastidio che in questo momento storico i nostri presidi non vengano considerati per quello che devono essere dal mondo della politica. In questo momento lì ha dato voce agli agricoltori ma qui abbiamo anche una rappresentante di un altro settore cruciale e sul quale dovremmo tornare a puntare che è la pesca. Passo alla parola a Nunzio Stoppiello, presidente dell'Associazione Armatori di Manfredonia perché poi anche questo di settore ha i suoi problemi, in qualche maniera è collegato anche all'agricoltura, è vero? Forse qualcuno in più rispetto agli agricoltori. Io vorrei partire con un ringraziamento agli agricoltori italiani che hanno ribaltato una deriva europea che portava all'indebolimento di settori primari che in Italia sono importanti ma sono importanti soprattutto nella nostra regione sia come agricoltura e sia come pesca. Io ritengo che bisogna lanciare un messaggio forte e chiaro a cominciare dagli enti locali che saranno dopo gli operatori della pesca e dell'agricoltura le prossime vittime di queste politiche scellerate della comunità europea. Finalmente si comincia a sentire la parola che vogliono rivedere alcuni programmi che loro hanno messo in atto che sicuramente hanno fatto passare ai pescatori 30 anni di torture perché ogni 15-20 giorni usciva un regolamento incomprensibile ai più che ti limitava nelle proprie attività. Quali sono i principali problemi? Velocemente perché dobbiamo andare a Bari a vedere come sta andando questa protesta. Quindi le chiedo soltanto di elencare. Velocemente noi abbiamo un problema che riguarda la questione green. Noi abbiamo dei mezzi che andiamo per mare, quindi motori diesel, e che negli ultimi anni proprio a causa delle crisi non sono stati rinnovati. Quindi il passaggio di questo provvedimento ci avrebbe messo in forte difficoltà economica e quindi si rischiava di far chiudere un'attività storica di generazioni in Puglia. L'altro problema, hanno messo una serie di regole che sono impossibili da attuare. Il dottor Corleone annuiva rispetto a quello che diceva la collega Fazio. Poi ritorniamo da Nunzio Stoppiello per continuare a parlare di quelle che sono le criticità. Le chiedo di essere breve così possiamo... Assolutamente il Green Deal rivisitato, la parte ambientale non deve essere estremizzata, è un grande blocco burocratico ma anche psicologico per l'agricoltore che va formato dalle scuole. L'IVA deve essere completamente abbattuta su una serie di prodotti di prima necessità. Dobbiamo cominciare a comprendere le ragioni per le quali la biodiversità, le nostre eccellenze del Made in Italy, non possono essere sottovalutate, sottorganizzate da una Comunità Europea che invece deve ascoltare il nostro Consiglio regionale, che qualitativamente posso garantire che ha le competenze per supportarci. Da parte nostra, con le categorie dei lavoratori, saremo presenti a partire da Bruxelles sapendo che forse le mani devono essere lavate di meno da parte di chi la politica invece non la vuole sporcare più di tanto. Sto piello, l'avevamo interrotta ma siamo in diretta. Gli argomenti sono paralleli, quindi viviamo le stesse disgrazie provocate dalla Comunità Europea perché i nostri prodotti sono entrati in un meccanismo che non riusciamo più a commercializzare il nostro prodotto proprio perché arriva prodotto da tutti i punti del globo. Minacce proprio sul mercato. E quindi mentre noi dobbiamo rispettare migliaia di regole, ci arrivano questo prodotto che viene controllato al 10% rispetto a noi. Quindi noi chiediamo di rivisitare, ma soprattutto chiediamo un confronto perché se tu vuoi cambiare le cose non lo puoi fare nelle stanze, lo devi fare sui territori. E questo è il problema vero di tutte le categorie. Mi deve spiegare perché io devo finire la mia attività. In questo momento io mi sento di voler fare un annuncio. Io chiedo a tutti i rappresentanti degli enti locali, gli enti comuni, le province, la regione, di attivarsi e di affiancarci rispetto a queste cose per non perdere questo momento importante che i popoli stanno creando non solo in Italia ma in tutta Europa. perché la deriva che stavano creando, nonostante che i parlamenti europei sono fatti da popolari, partiti di sinistra e populisti, quindi tutti i gruppi che dovrebbero pensare ai popoli, i popoli sono stati messi da parte, non hanno più il potere di fare democrazia, quindi col voto scegliere chi gli deve accompagnare nelle politiche. Quindi ci sono altre persone che stanno sopra di tutti noi e quindi se non ci muoviamo insieme veramente rischiamo di perdere molte delle economie che abbiamo. Questa è una lotta importante. Secondo lei si riuscirà a vincerla alla lunga, soprattutto alla luce di quello che sta accadendo? Lei è ottimista? Facciamo un richiamo proprio agli enti che poi pagheranno, perché quando un settore va in crisi è il territorio, i comuni che andranno, quindi se non mettiamo ordine, perché noi abbiamo l'abitudine di dividerci quando dobbiamo fare queste battaglie. Ringraziamo gli agricoltori che hanno dato veramente una svolta all'attenzione rispetto a queste cose. Intervengo anche sulle televisioni territoriali, che sono quelle vicine ai territori. Noi ci siamo. Quelle nazionali hanno altri interessi. Noi abbiamo subito risposto presente. E vi ringraziamo, perché solo chi sta sul territorio poi vede i cambiamenti negativi che tutte queste politiche stiamo avendo. Noi siamo passati da distruggere le arange a non poter vendere più le arange. Ma che politica questi ci vanno a dare? Senza nessun tipo di compronto. Io che ho fatto una vita professionale nel settore, molte volte ci cadevano queste cose. E uso dire che i pescatori hanno passato 40 anni, 30 anni, perché la pesca è passata la gestione comunitaria da 30 anni, di torture. Adesso con gli ultimi provvedimenti li hanno condannati a morte. Io penso che in Europa non è previsto né la tortura e né la condanna a morte. Non si operano. Dobbiamo anche dare un altro messaggio. Facciamo parlare anche con Leone. Per la prima volta siamo riusciti ad ottenere circo massimo da indipendenti. Io vorrei dire a tutte quelle mamme... Sì, un messaggio conclusivo, perché poi dobbiamo andare a Barletta. Noi facciamo il giro di Puglia e Basilicata. Ma il messaggio conclusivo è di una bellezza unica, esattamente come la bellezza della vostra emittente che dà voce a territorio. Prendete per mano i ragazzi, non ci saranno scontri. La prima volta che stiamo affrontando una protesta senza violenza, senza brutte parole, con tanto tatto e sentimento per il popolo e la democrazia. Vi prego a Roma, portate i vostri ragazzi, anche minorenni. Venite in massa, cittadini. Venite da parte di tutte le categorie di lavoratori, perché dobbiamo imitare il modello francese. Non lasciamo solo gli agricoltori, i pescatori, gli allevatori e soprattutto i trasportatori. Venite con noi in piazza a gridare libertà. Grazie ai miei ospiti graditissimi di oggi. Ricordiamo i vostri nomi. Giovanni Corleone, consulente internazionale. e poi Nunzio Stoppiello, presidente dell'Associazione Armatori di Manfredonia.